Come influisce sulla Juventus il successo dell'Inter in Coppa Italia? La sfida che ha segnato l'epilogo della Coppa Italia 2022-23, consegnando il trofeo all'Inter, non è stata seguita soltanto dai tifosi dei nerazzurri e da quelli viola. Non mancano del resto altri club che, in maniera indiretta, potevano dirsi interessati agli esiti della sfida dell'Olimpico, vinta per 2-1 in rimonta dall'Inter. La Juventus, ad esempio, può sorridere. L'edizione odierna di Tutto Sport approfondisce proprio le conseguenze per i bianconeri della Coppa vinta dall'Inter, soffermandosi innanzitutto sull'aspetto più ovvio. Se i viola avessero ottenuto il successo, infatti, il settimo posto in campionato non avrebbe dato accesso alla prossima Conference League. Un epilogo scongiurato che consente dunque alla Juve di avere la certezza matematica di un posto in Europa nella prossima stagione. Coppa Italia all'Inter. Perché la Juve può sorridere? Tale certezza permette alla Juve di confidare in una stagione 2023-24, priva di penalizzazioni a priori, l'ormai celebre concetto di afflittività. In presenza di una qualificazione europea in questa stagione, ricadrà dunque sul 2022-23, senza bisogno di sanzioni a livello di classifica per la prossima annata. Anche a livello di possibili contromisure UEFA la Juventus può sentirsi in qualche modo rincuorata, e potrebbe togliersi il pensiero di un'esclusione dalle coppe europee già nel 202. 3-24, prima stagione utile, senza dover attendere oltre e potendo dunque ripartire da zero. Senza una qualificazione europea per la prossima stagione. In sostanza, i bianconeri avrebbero rischiato concretamente di perdere due stagioni consecutive in Europa. Scenario ovviamente deleterio sul fronte economico oltre che su quello sporti.